eccoci qua ciao raga ciao a tutti siamo bentornati sul canale musica e natura stasera proviamo una canzone di luca cicovani on my own ieri sera come ieri comunque ho fatto una un giro se avete visto il video non so andatelo a rivedere qui sopra siamo andati verso un monte carmo di loano purtroppo il tempo non era bello c'era tanta nebbia e si è visto ben ben poco ovviamente quello che arriva riscontato da domani sera l'italia crede penso che il coprifuoco arriva verso le 23 quindi già un'ottima cosa e comunque un'altra cosa che volevo precisare mantenere mi raccomando mantenere le distanze mi raccomando quella di sanificarsi le mani quando si arriva in casa e anche quella di lavarsene prima di sanificarsene e per il classico di distanziamento del coronavirus temporaneamente quello ho preso comunque non c'è solamente ieri stavo stavo dicendo prima che la ligura comunque non c'è solamente genova da visitare ma sono altre zone come per esempio da verso le si divide la ligura levante e ponente da una parte si va verso la spezia come le cinque terre man manarola corniglia c'è anche lì il museo della dell'arsenale militare dove sono stati i primi sperimenti di alessandro volta e invece da dall'altra parte da ponente si va verso magari sestri ponente l'aeroporto cristoforo colombo poi lì ti istituto italiano di alta tecnologia che si esce verso genova bolsaneto si va verso moro e poi per chi vuole può andare anche verso magari diano marina in imperia poi anche un altro camping famoso dove ci vanno quasi tutti i camperisti e il capo capo mi capo mi mosa non sono capace di parlare vera vergogna e poi dall'altra andando in fondo si va alla liguria verso il ponte san ludovico e se volete si svalica verso la francia ovviamente venite in liguria perché non c'è solamente questo ma un altro merenda tipica perché questa la liguria è un po una regione dove siete stufi di stare al mare potete benissimo andare su in montagna siete stufi di stare su potete benissimo andare giù al mare e poi anche con la meravigliosa cremagliera che vi porta su alle righi e dove potete visitare tutti i forti come forte diamante forte sperone forte ratti forte risceglia di cui io ho già visitato vi posso dire se siete bene allenati comunque fatelo mi raccomando perché è un giro anche abbastanza lungo e poi un'altra merenda tipica anche quando ero bambino io che anche tutte le mamme che hanno i bimbi li danno ma anche comunque ancora dei grandi è la focaccia ligure che si divide in tre parti salvia cipolla e anche dolore male quindi non vi sto a dire altro perché sennò starete rimpagni seduti belli comodi sul sul divano andiamo bandale e chance a suoniamo on my own di luca cicovani questo brano questo cantante partecipare al medium di un passo dal cielo dal romantico dalla storia che si vive prima l'anno scorso era vissuto in trentino quest'anno è stato fatto a san vito di cadore dove ci sono le varie dove si vedono queste varie montagne che sono il gruppo del sorapis e il land land e lao che un 3000 credo e un altro monte famoso che ho fatto la rima con pompelmo che il monte permo che penso che anche quello sia un 3000 e andiamo dai suoniamo insieme non non vi lascio suonare scusate il mio cellulare che eccolo qua ma è solo 19 anni sì è stata una girlsauce di un altro neri altri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti